Progetto Amazon che fa gola, insediamento di un centro e-commerce con importanti ricadute occupazionali previsto a sud d'Abruzzo, con professionisti di una società di ricerca che opera per conto del colosso Amazon.com che diventa motivo di contrasto, confronto, dibattito, probabile questione di poteri politici più o meno influenti. Ad agosto era stata consegnata la proposta di insediamento al comune di Fossacesia per la realizzazione di un'attività logistica e di smistamento Amazon in Val di Sangro, posto strategico per infrastrutture, mille le possibili assunzioni. L'impianto di Amazon prevede una ricaduta occupazionale dunque imponente, attenzioni rivolte sull'otto di 21 ettari di terreni ubicati proprio all'uscita del casello Val di Sangro, a due passi dalla 14 e dalla linea ferroviaria, confinante con la Fondovalle Sangro. Luogo ideale dunque, tanto che il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe Antonio immediatamente si è attivato per promuovere una variante al piano regolatore e rendere l'area da agricola produttiva. Massima disponibilità dunque ad abbracciare l'iniziativa. Da parte dei 53 proprietari del terreno nessun problema, tutti pronti ad accogliere Amazon. Costo dell'acquisto 2 milioni e 300 mila euro. Poi l'improvvisa intenzione di realizzare l'investimento nell'autoporto di San Salvo, realizzato dall'ex consorzio industriale del Vastese, inaugurato nel 2008 e mai entrato in funzione. L'infrastruttura che l'Arap ha messo in vendita è a 3 milioni e 700 mila euro. Di Giuseppe Antonio riconosce il sacrosanto diritto di scelta di investitori privati, ma qualcosa qui non torna. Poteri politici in azione? Sottolineando l'assenza totale, nella sua conferenza stampa, di qualsiasi campanilismo. C'è la ferrovia, ci sono strade, c'è la statale 16, c'è una stazione nella quale i trasporti a delle infrastrutture e delle strutture innovative più importanti d'Europa. Ci sono tutte queste condizioni. Scelga Amazon o aziende analoghe dove insegnarsi. A noi spetta dare occupazione, soprattutto a quelle persone che sono state espulse dalle aziende perché hanno chiuso o perché in crisi e soprattutto individuare un territorio che comprende anche l'area di Chieti-Pescara, Val di Sangro-Chieti-Pescara, ci sono 40 km da percorrere. Ma tutte le cose che ho detto in questa conferenza stampa, in modo trasparente e chiaro. Scelga Amazon. Io rispetterò la scelta che ovviamente un'azienda privata farà per insediarsi in una zona. Potrebbe essere anche una questione politica scegliere San Salvo rispetto a questa zona? Io mi auguro di no perché molti cittadini dell'area sud, del Morise, della Campania, del Lazio, delle Marche lavorano in Val di Sangro, alla Sevel o ad altre aziende. Quindi penso che non sia e non debba essere una questione politica, deve essere una questione strategica per l'Abruzzo perché si rischia davvero che ci sia anche qualche altra regione che vorrebbe avere un insediamento di questo genere.